Buongiorno a tutti. Alle volte può sembrare che la complessità della vita sia insolubile. La vera vita ha la caratteristica di essere indovuta ad amore, che per sua natura è semplice. Allora l'istruzione è il cammino che può conciliare la complessità e la semplicità. Ma l'istruzione ha bisogno di essere orientata alla ricerca della saggezza, perché non è importante possedere il mondo se la condizione è la distruzione della sua bellezza e del suo amore. Allora quindi è importante che noi ricerchiamo l'autentica verità e la vera libertà. E' come un profumo che possiamo respirare. Ciascuno può trovare il vero senso della sua vita. La condizione è di essere disponibile e di essere preparato orientando la propria vita all'amore. E l'amore verrà. L'amore verrà perché la saggezza ci ama. L'amore verrà perché la saggezza ci riempie. D'amore verrà perché la saggezza ci riempie.